Ora che è tutto finito, questa centrale non è così importante. È solo un'applicazione di una teoria che conosciamo da tempo. Invece di congratularci, ci dovremmo vergognare di non averla realizzata prima. Il vero lavoro comincia adesso, perché dobbiamo annullare le distanze. I nostri sensi percepiscono soltanto ciò che è vicino. Per sapere che cosa accade lontano da noi, dovremmo poter trasmettere a distanza le immagini, le notizie, l'energia. E perché no alla materia? Ora dobbiamo liberare il pensiero dai limiti che lo spazio e il tempo da sempre gli impongono e conservarne le caratteristiche principali. Ora e nei secoli futuri, qui sulla Terra, come a migliaia di anni luce nell'ignoto, vi chiedo scusa. Grazie. 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 Grazie.